Un saluto a tutti da Massimo Emanuelli, ecco spezzoni della puntata della prossima settimana dell'Angolo della Scuola. Siamo in onda su diverse radio, ormai non me le ricordo tutte nemmeno io, la radio della Campania Radio Free Live, la Lombarda Radio Hemingway, Radio Blu Italia e altre radio. Da questa settimana sbarchiamo in Toscana, a Firenze, Stazione Universo. Grazie a Fabrizio Faber, voce storica dell'emittenza toscana, lavorato con Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Marco Baldini, Umberto Broccoli e ci replicherà anche Stazione Universo. Il giovedì sera alle 21, il lunedì alle 17.30 su Radio Free Live, il sabato alle 22.30 su Radio Hemingway, mercoledì alle 13 su Radio Blu Italia e sulle altre radio. Il cerca trova, cercateci in rete. Questa puntata, la scuola della radio e la radio a scuola. Ascolterete appunto Fabrizio Faber e Samuele Sammi Barin, Radio Padania. Non so, non ci siamo in onda anche su Radio Padania, poi qualcuno farà casino. Naturalmente il solito pirla, mi parli milanese, che critica senza ascoltare e senza leggere ciò che scrivo. Non c'entra niente. Samuele Sammi Barin è un DJ storico, uno speaker storico, un giornalista storico dell'emittenza Lombarda. Ha lavorato su diverse radio, ha lavorato anche in Rai, a Isoradio e lavora anche a Radio Padania, ma ha fatto anche Radio Italia anni 60 e tante cose. Le ascolterete in questa puntata, ascoltiamo spezzoli della trasmissione. Samuele Sammi Barin, ciao! Uè, ma che piacere! Ciao a te, ciao a tutti, grazie soprattutto! Samuele, dove sei nato? In Padania, penso e spero. Assolutamente sì, selezionato accuratamente. Nato a Monza, provincia di Monza e Brianza, ma ai tempi era provincia di Milano. Monzese, c'è una barzelletta di Silvio Berlusconi, fa ancora ridere ogni tanto sui Monzesi, ma parliamo di te. La passione per la radio ti nasce quando e come? La passione per la radio nasce da quando ero bambino, perché mio padre mi portò su un palco quando ero proprio tipo cinque anni per portargli il registratore. Praticamente mio padre recitava dal palco, parlava alla gente e quel giorno io gli portai un registratore e vedi per la prima volta al pubblico. E non so perché, mi piaceva tantissimo l'idea di parlare davanti a tanta gente. E mio padre mi fece cominciare giocando con i registratori, giocando con il baracchino, il famoso CB negli anni 70, e via via passandomi la passione di parlare in un microfono. Samuele Studente parlava di radio tanto che in terza media la mia tesina è stata, pensate un po', sulle onde elettromagnetiche, cosa che non era assolutamente nel programma scolastico delle medie, ma che io imparai a memoria perché le amavo troppo e quindi mi divertivo ad ascoltare la M, come dicevi te, Radio Capodistria, Radio Montecarlo, ma anche le radio che arrivavano da più lontano perché insegnavano moltissimo. E quindi parlavo ai miei amici di questa bellissima idea che era trasmettere per radio. E diciamo che ho lanciato una piccola moda, al posto che giocare a pallone come tutti facevano, beh qualcuno l'ho tirato dentro e facevamo i programmi proprio insieme e gli ho insegnato, nascevano le prime radio private, io ero piccolo piccolo e quindi non potevo certo parlare ai microfoni di Radio Milano International 101. E allora che ho fatto? E allora tramite amici mi sono recuperato un piccolo mixer autocostruito, un trasmettitorino da mezzo watt di quelli che si compravano alla GBC con un'antennina e ci ho collegato praticamente un auricolare che usciva l'audio dall'impianto stereo collegato a sua volta al mixer. Signori, e con un registratore e un giradischi e chiaramente un microfono, ho fatto la radio in casa mia. Ed è stato un divertimento allo stato puro perché facevo telefonare i miei compagni di classe per fare le dediche e le richieste, chiaramente attaccando anche il telefono con la famosa ventosa per sentire l'audio in diretta. Ragazzi, è stato fantastico. Due, tre anni di incredibile successo tra gli amici che mi venivano a trovare per vedere come trasmettevo da casa mia perché con questo piccolo trasmettitore dal quinto piano la mia radiolina si sentiva comunque un chilometro intorno a casa. E poi sono arrivate tutte le radio libere, quelle potenti, e la mia frequenza che era 108 MHz è stata chiaramente annullata. Ai tempi penso non ci fosse ancora Radio Maria ma c'era qualcos'altro. Come si chiamava la tua radio, la prima radio? La radio che ho fondato nella mia cameretta si chiamava Radio Music 2000 ed effettivamente sembrava un futuro lontanissimo. Ai tempi era il 1976 e quindi per me era veramente una cosa che poteva prevedere un futuro chissà cosa avrei fatto nel 2000. Poi effettivamente è stato il mio futuro perché da quella piccola radio sono passato ad altre radio, quelle vere. Forse il mio modo di parlare però è stato influenzato, che non è da professore in radio, è stato influenzato da tre persone che ho incontrato proprio in radio. Gianfranco Funari, Roberto Poletti e Matteo Salvini. Parliamo molto diretto alla gente noi e anche tu. Sì, essere diretti, non avere peli sulla lingua, a volte esagerare, certamente fa scena, fa spettacolo ma soprattutto invoglia la gente forse ad ascoltarti in un mondo che è facile plastificare attraverso una ricerca della perfezione e sappiamo benissimo a quali radio o televisioni puntare su questo argomento. Sentire qualcuno che è ancora sincero, al quale magari scappa la parola forte, ma che comunque cerca di trasmettere concetti ben chiari, ma soprattutto, attenzione, non parla soltanto, perché oggi parlare sono bravi tutti, ma anche ascolta la gente. Ecco, penso che nelle radio di oggi, quelle blasonate, quelle importanti, quelle fighe, ma anche l'ascolto. Ai tempi per parlare in diretta o con un DJ bastava telefonare alla radio preferita. Ora, se chiami la tua radio preferita, ti ritrovi una segreteria telefonica nella migliore delle ipotesi. Oppure ti chiedono nome, cognome, numero di telefono, argomento di cui vuoi parlare e forse ti richiameranno, forse nel corso della giornata. Non parla più la gente, parlano soltanto i politici e aggiungo determinati politici. Avete notato che nelle televisioni importanti, nei programmi importanti, sono sempre quelli i politici che girano? Ma non sembra un po' strana questa cosa? Sempre quelli, ogni settimana sempre gli stessi ospiti, sempre le stesse cose. E la gente non può più parlare, certamente. Io ricordo Radio Radicale, negli anni Ottanta, quando per protesta aprì i propri microfoni con una segreteria telefonica ed era diventata Radio Parolaccia. Io continuavo a dire non andate a votare e se andate a votare non votate Parisi. E dicono che anche i leghisti non abbiano votato Parisi e che noi, io e i leghisti, abbiamo fatto perdere Parisi. Diciamo che ha perso e chissà se avesse vinto. Io sinceramente non me lo ricordo come particolarmente amato dai leghisti. Lo mi ricordo come una certa imposizione. Poi Samuele, devo dire, al peggio non c'è mai fine. A distanza dei cinque anni uno rivaluta Parisi perché non è che i leghisti, anch'io e anche molti altri, hanno amato poi Bernardo. Io sostenevo, poi infatti mi hanno dato ragione, che il peggior candidato della destra o del centrodestra di sempre, dico dal dopoguerra senz'altro, ma anche dal risorgimento in po', mai una debacle simile. E non è stata certamente l'unica perché in politica, ragazzi, è così. Poi ai tempi di Bossi, ragazzi, nella Lega è quello che diceva Bossi, era sacro. E quante volte tutti noi leghisti, perché noi siamo leghisti, noi plurali e maestati. Vi aspetto su Stazione Universo, Radio Free Live, Radio Blu Italia, Radio Hemingway, eccetera, eccetera. Siccome mi hanno scambiato, adesso mi scambieranno per un leghista, mi hanno scambiato per un comunista, per un piddino, per un liberale, per un socialista, per un renziano e tra un po' vi scopriranno grillino. Naturalmente, ascoltate la trasmissione, vi farete due risate e forse capirete qualcosa. Smettetela di giudicare, ma mi rivolgo solo a 4 o 5 persone, perché gli altri che ascoltano capiscono l'ironia e capiscono che cos'è la trasmissione. Cosa sia Emanuele non lo so neanch'io. Vi aspetto sulle nostre radio.